Una conversazione, quella che vi proponiamo oggi con l'Avvocato Fabrizio Di Paola, che ringraziamo per essere nostro ospite, oggi esponente del Popolo della Libertà, un'esperienza quella dell'attuale consigliatura che nasce però con un'associazione, con una lista civica in particolare, che si chiama Sciacca al Centro, stavo per dire si chiamava ma in realtà esiste ancora un'associazione. La domanda iniziale che voglio farle in merito alla situazione politica è degli ultimi tempi un po' questa vicenda delle liste civiche, in realtà è una questione che risale a tanto tempo fa, liste civiche che poi dopo un po' però perdono probabilmente il loro appille elettorale, io chiedo a lei un commento anche su questo, riferendomi alle ultime vicende che hanno riguardato per esempio nella maggioranza della lista autonoma se accenze che si appresta a sparire, sono delle ultime ore le indiscrezioni poi confermate che danno il gruppo dell'assessore Sabella vicino ormai a futura libertà. Intanto sulle liste civiche qual è la sua opinione? Secondo me bisogna fare una distinzione tra quello che sta accadendo all'interno della maggioranza qui a Sciacca e l'argomento di carattere generale delle liste civiche, perché quello che è accaduto a Sciacca è stato ampiamente rappresentato nel corso dell'ultimo dibattito consigliare, cioè a mio avviso la giunta che in questo momento è presieduta da Vito Bono si è ampiamente politicizzata. Inizialmente nasceva come una giunta che aveva una sua caratterizzazione civica, peraltro anche nel programma erano contenuti una serie di principi ispiratori che avevano proprio questa caratteristica, l'apertura alla città, a dire del programma il superamento di una precedente esperienza che veniva qualificata come personalistica, come oligarchica, quindi un principio di apertura rispetto alla società. D'altronde la compagine era composta da un solo partito politico che era l'MPA e varie liste civiche che poi oggi, ora per allora, vengono invece etichettate come liste che erano chiaramente riconducibili al PD. In realtà questo in campagna elettorale non fu detto, anzi io sono convinto per essere stato molto presente nel dibattito preelettorale di allora all'interno dei vari gruppi che in quel momento cominciavano a preparare la campagna elettorale, anzi io sono convinto che il simbolo del PD non lo si volle presentare appositamente, perché si era alla ricerca di una ipotesi elettorale che non fosse etichettabile come centrosinistra, squisitamente come centrosinistra. Anche se veramente c'è il simbolo della lista democratica che richiamava graficamente. Si lo capisco, però verrebbe da chiedersi perché il simbolo di questa lista democratica non è il simbolo del PD. In ogni caso a me sembra che oggi la compagine si è disvelata a essere chiaramente di centrosinistra con l'ingresso di un ulteriore assessore riconducibile al PD e di un altro assessore riconducibile all'MPA. Io credo che questo stia provocando lo sfaldamento delle liste civiche che già era avvenuto in precedenza, perché erano già avvenute meno alcune liste civiche quando si fondò e si formò il gruppo del PD in Consiglio Comunale. Ma mi sembra oggi più di prima perché questo carattere originario della compagine Bono sia avvenuto meno. E io sono convinto che questo può provocare degli ulteriori problemi all'interno, l'ho detto nel corso del mio intervento nel dibattito consigliare, perché bisogna capire quanti di coloro i quali aderirono al programma Bono sono assolutamente convinti di continuare questa esperienza che si va politicizzando, cioè che ha una sua identità squisitamente di centrosinistra, mentre molti dei componenti all'attuale maggioranza, soprattutto in Consiglio Comunale, non mi pare che siano tali. L'esperienza delle ali per Sciacca, lei come la giudica? Un gruppo che è nato dentro del Consiglio Comunale, una cosa sostanzialmente non ha precedenti. Assolutamente no e ho detto che secondo me è il sintomo di una sofferenza interna, perché si tratta di un gruppo formato da consiglieri comunali che si appartenevano a liste diverse, che quindi nasce all'interno del Consiglio Comunale, probabilmente per rivendicare una presenza per rivendicare ruoli anche di amministrazione e che rappresenta un'assoluta rarità, non si era mai verificato prima, perché non è la naturale conseguenza del momento elettorale e io lo interpreto con un po' di preoccupazione, perché se si dovesse ulteriormente andare avanti con prassi di questo genere è ben possibile che qualunque consigliere comunale si mette insieme ad un altro, crea un gruppo e poi rivendica posti e visibilità all'interno dell'amministrazione. Non credo che questo corrisponda al corretto andamento di una compagine elettorale eletta dal popolo, perché penso che possa costituire un vero e stravolgimento, anche perché queste creazioni interne nell'ambito consigliare non sono supportate da un programma politico, non sono supportate da rivendicazioni di ordine politico, da programmi, da idee che si vuole portare avanti nell'ambito della compagine amministrativa. In generale sul discorso delle liste civiche, per quanto vi riguarda anche, no? Sì, per quanto ci riguarda sì, è vero, noi avevamo presentato due liste civiche di appoggio al PDL, anzi erano tre, una non è riuscita a fare ingresso in Consiglio Comunale, però queste avevano una loro chiara identità politica sin da allora, perché la lista civica, quella della quale io facevo parte e che ho fondato, era formata da consiglieri comunali che avevano appoggiato la sindacatura di Mario Turturici, che avevano ricoperto ruoli o consigliari o amministrativi all'interno di quella compagine e anche se c'erano gli amici che originariamente erano vicini a Ignazio Messina, nel corso di quei cinque anni la loro collocazione politica era apparsa ben chiara a tutti, cioè si era ormai instaurato un rapporto politico e amministrativo talmente forte che diventava difficile andare in diverso avviso rispetto a quella ipotesi politica e a quel programma. Lo stesso dicasi per la lista Forza Sciacca e lo stesso dicasi per Alleanza Azzurra, che peraltro era un simbolo già sperimentato sia a livello provinciale che anche in ambito locale altrove. Quelle liste civiche peraltro, in particolare Sciacca al centro e poi ora adesso anche Forza Sciacca, si sono trasformate in associazioni politiche. La mia lista civica in particolare, subito dopo il periodo elettorale, ha avviato con tutti i candidati della lista una fase di riflessione, di riorganizzazione, perché era giusto che tutti coloro si erano spesi per quel risultato, avessero una loro visibilità. Abbiamo costituito l'associazione politico-culturale che è ancora presente, anche se è transitata con tutti i suoi componenti nel PDL nel mese di agosto scorso, però continua a lavorare, cioè continua a svolgere un ruolo di associazionismo che ha una sua identità culturale e politica, ma che allo Stato ha anche un suo ruolo diverso rispetto a quello del partito. Rispetto ai timori che lei ha poco fa espresso sulla tenuta della maggioranza, cosa si aspetta adesso? Perché si parla un po' di questo mese di febbraio-marzo, che dovrebbe essere un po' quello della svolta anche nei rapporti con questo gruppo consigliare della tua Sciacca, perché il sindaco dice che voglia andare avanti con una maggioranza. Per la verità il capogruppo del PD, Simone di Paola, non le ha mandate a dire a questi tre della tua Sciacca, ottenendo peraltro una risposta piccata da parte di Mimmo Sandullo, ha detto che se voi non ci state noi andiamo avanti anche con una minoranza. Insomma, i rapporti nella maggioranza sono abbastanza torbidi, senza offesa per nessuno. La sua opinione è quale? Cosa si aspetta adesso? Intanto io credo che dopo un anno e mezzo siamo al terzo rimpasto, è già secondo me un'anomalia. Anzi, devo dire che questo ultimo rimpasto è stato preceduto a una fase molto lunga.